Ma come fa un bene digitale a essere più caro del bene fisico che rappresenta? Allora, sto parlando di Gucci, sto parlando delle borse di Gucci e quindi facciamo un attimo di storia di quel che è successo. Gucci apre a un certo punto in Roblox, che è un metaverso, che è un ambiente virtuale, tra l'altro molto caro ai ragazzi molto piccoli, ma non solo, dove ognuno può creare il proprio ambiente virtuale. Bene, in Roblox si apre questo Gucci Garden e sostanzialmente è uno spazio virtuale dove si possono fare delle sfilate, ma dove si possono anche vendere dei beni. Bene, una borsa che si chiama, adesso io la chiamo Queen Bee, ma il nome è un po' più lungo, questa Queen Bee viene venduta inizialmente per 475 Robux, che è l'equivalente di circa 6 dollari. Quindi niente di particolare, cioè il tuo avatar dovrebbe circolare con questa borsa di Gucci, 6 dollari e ok, può per qualcuno essere considerato tanto, però 6 dollari. A un certo punto, per un meccanismo speculativo di rivendite e di apprezzamento di questo bene, viene addirittura a valere 350.000 Robux, che sostanzialmente sono 4.115 dollari reali, 800 euro in più del costo della stessa borsa, ma fisica. Com'è possibile quindi che la controparte virtuale, come dicevo all'inizio, costi più di quella reale? Allora, i meccanismi secondo me sono sostanzialmente tre. Uno, il giochino degli NFT. Gli NFT sono un meccanismo di sfruttamento della blockchain per il trasferimento di beni digitali che sostanzialmente rende questi beni unici. Quindi sostanzialmente se sto comprando una opera d'arte digitale, per quanto possa essere riprodotta all'infinito, io sto comprando un bene unico che può essere rivenduto e che quindi porta quel meccanismo di scarsità indispensabile per far apprezzare un bene. Cioè se un bene è infinito non vale niente, se un bene è unico come un caravaggio invece vale moltissimo. Secondo, c'è stato un meccanismo ovviamente speculativo, legato ovviamente anche al brand prestigioso. Terzo, c'è stato l'hype in generale su il mondo del metaverso. Dalla fine del 2021 si è avuto uno tsunami di informazioni regate a questo mondo, un hype pazzesco, tutti dovevano andare lì perché era il nuovo mondo, una grande opportunità. E' chiaro che questo ha portato sicuramente a tantissima speculazione e addirittura anche già a sgonfiarsi di determinate bolle. Quindi dei progetti NFT sono già saltati per aria, delle criptovalute valgono zero, degli immobili virtuali si stanno ovviamente sgonfiando. Questo non vuol dire che sia tutta ovviamente una truffa, ma sicuramente bisogna stare attenti perché in questo momento ci sono anche degli investimenti proposti sul metaverso che sono quantomeno discutibili. Buona borsa di Gucci a tutti se ce la possiamo permettere.